Ciao ragazzi, sono qui oggi a rispondere a una delle vostre domande preferite. Qual è l'arte marziale più utile in strada per difendersi? Allora, innanzitutto dobbiamo usare il buon senso. Non c'è un'arte marziale migliore o peggiore. Se io ho portato a casa il risultato, cioè mi sono difeso per strada, sono tornato a casa dei miei cari e ho utilizzato una tecnica di pugilato, una di BJJ o di Krav Maga, chi vi può dire che avete usato la tecnica sbagliata? L'importante è portare a casa il risultato. È chiaro che occorre avere un bagaglio tecnico più completo per avere maggiori chance di sopravvivenza. Che cosa voglio dire? Che posso andare a studiare pugilato per avere un buon striking pugilistico, posso andare a studiare grappling e lotta per avere maggiori capacità di difesa anche a terra, come nel BJJ, quindi più tecniche e discipline io so gestire e ho nel mio bagaglio tecnico, meglio riuscirò a difendermi per strada. Il Krav Maga è molto utile per quanto riguarda il discorso delle armi, perché nelle arti marziali non troviamo una persona, un avversario armato di un'arma e l'altro disarmato. Se ci sono le armi, le hanno entrambi i contendenti. Anche nello sport si lavora magari a terra, in piedi, eccetera, ma le armi non se ne trovano. Quindi è difficile che uno sport possa darci degli strumenti per affrontare un avversario armato. Il Krav Maga può essere utile e complementare a questo. Quindi non deve essere questa competizione, meglio uno, meglio l'altro, eccetera. No, assolutamente, dobbiamo imparare a lavorare con la testa. Più cose so, più possibilità ho di sopravvivere. Molti dicono, eh sì, però vabbè, il pugile per strada è il più pericoloso. Sì, io adoro il pugilato, apri una piccola parentesi, io sono proprietario di una palestra di pugilato e di conseguenza so quanto valga questa disciplina. Però dire che solo col pugilato, piuttosto che solo con la kickboxing, piuttosto che solo col BJJ, io posso cavarmela in strada, io penso che non sia proprio così. È importante, come dicevo prima, avere più spessore tecnico in diversi fronti. Che cosa significa? Che quando io dovrò affrontare un avversario, se potrò utilizzare delle tecniche di pugilato, le utilizzerò, ma se io so fare solo pugilato e mi trovo una persona armata di coltello che mi sta portando delle coltellate, magari la mia reazione sarà quella di prenderlo a pugni perché nel mio DNA ho proprio questo portare i colpi, ma magari non avrò l'attenzione nel fermare quel maledetto braccio armato, cosa che invece il Krav Maga mi insegna come priorità. Quindi vedete che uno non esclude l'altro. Quindi se io voglio imparare il Krav Maga, ad esempio, posso tranquillamente imparare il pugilato o viceversa. Quindi rimaniamo sempre lontani da quello che è la competizione. Ricordiamoci che quello che ci può servire per salvarci in strada arriva da tante discipline messe insieme. Quindi più bello di così, più bello di aprirsi e andare a imparare tante nozioni in diverse palestre, penso che sia molto meglio che andare a creare rivalità tra le varie discipline sportive. Ciao ragazzi, il video è finito, ma ci sono tante cose da scoprire ancora sulla difesa personale, per cui iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, vi lascio qui i link ai social per vedere come metto in campo quello che vi sto dicendo. Ci vediamo al prossimo video. Stay safe! Ciao!